Mi sono assolutamente ritrovato in questa indagine perché fa evidenziare l'importanza del design nel nostro settore, nel nostro settore che rappresentiamo, ma anche molto più trasversalmente in tutti i settori italiani. Noi italiani siamo bravi a intercettare il bello, a creare il bello, ma perché siamo portati naturalmente a questo, siamo nati su una terra meravigliosa, a che si dica, a che purtroppo anche noi ci facciamo anche del male, siamo anche un po' autolesionisti per certe volte, però è indiscutibile che la ricchezza che abbiamo ereditato dei nostri avi ci ha dato una dote nel nostro DNA che è assolutamente innegabile e che è quella che fa la differenza dell'italiano nel mondo. Quindi il design è un ottimo linguaggio per riuscire a trasmettere queste nostre qualità e le aziende che poi uniscono il design con la capacità del fare poi materialmente degli oggetti, dei prodotti o anche dei servizi, sarà un connubio, è un connubio assolutamente auspicabile per il futuro e sarà la nostra grande fortuna.